Messaggio dalla Federazione Galattica di Luce attraverso Greg Gilles, 7 maggio 2012. Il percorso della giustizia Cancelletto 7 è un viaggio particolare in cui un'anima si incarnerà una volta deciso che è proprio questa lezione, che l'anima desidera e necessita di imparare per continuare ad avanzare come un essere di luce attraverso questo percorso che chiamiamo esistenza. Ci sono molti diversi percorsi a tema a cui un'anima può prendere parte, e il viaggio della giustizia non è che uno di questi. Ognuno di voi in questo momento è su un determinato percorso a tema. Ognuno di voi ha scelto il proprio viaggio e tutte le lezioni, che vi saranno presentate mentre vi incarnate nel mondo fisico. Molti degli amici e molti degli antagonisti, che incontrate sono stati accuratamente selezionati da voi, al fine di contribuire a facilitare l'apprendimento delle lezioni particolari legate al cammino della conoscenza, saggezza e esperienza su cui vi trovate attualmente. Quando è il momento di concludere il percorso lo deciderete voi e una volta imparate tutte le lezioni sarà il momento di tornare a casa. Una volta, che sarete di nuovo a casa potrete riflettere con attenzione tutte le lezioni, che avete imparato e, forse, anche lezioni, che vi siete persi. Avete tutto il tempo per guardare indietro nella vostra vita ed esaminare proprio dove i problemi sono sorti a causa di vostre opportunità. Non sfruttate per imparare le lezioni particolari progettate per portare l'intera immagine a voi e permettervi di ottenere la saggezza in una zona particolare della vostra scelta. Lungo tutto il particolare percorso che su cui siete voi avete amici, allenatori e guide che rimangono indietro entro i regni superiori, che vegliano su di voi e vi guidano, tutti insieme facendo il possibile per realizzare le lezioni, che vi regaleranno il premio della saggezza che cercate. Fanno del loro meglio per rimanere sullo sfondo, e non rappresentare per voi ostacoli e costruzioni, che non servono a realizzare il vostro bene più grande. Questi amici e guide che amate profondamente e si prendono cura di voi come un padre ama e si prende cura del suo bambino, così loro lo sono stati con voi e hanno vegliato su di voi dal momento della vostra nascita e dei vostri respiri come nuovo essere di luce incarnato nei regni fisici. Oggi molti di voi stanno cominciando a comunicare in modo più aperto con le proprie guide, le proprie famiglie e i propri amici a casa nel nido dei regni superiori dove ci aspettiamo la nostra riunione con voi. Molti di voi torneranno qui per poco tempo nei prossimi giorni, mentre molte delle lezioni per le quali vi siete incarnati sono state sperimentati da voi, e il tempo è giunto per il vostro ritorno al luogo da dove venite e che si chiama casa, proprio qui con noi. Ci sono diversi modi in cui un essere può lasciare i regni fisici per resistere ancora una volta nei regni superiori della creazione all'interno di questo universo. Non tutti scelgono di uscire dal regno fisico attraverso l'esperienza conosciuta per gli esseri umani come morte. Ci sono, naturalmente, altri metodi, che possono essere utilizzati per un essere spirituale incarnato in un corpo fisico per comparire nuovamente all'interno regni superiori. Siamo qui in questo momento per consentire, così come molti di voi hanno scelto di uscire dai regni fisici e riemergere all'interno delle dimensioni superiori, senza necessità di lasciare i propri corpi fisici indietro. Questa procedura può essere nuova e non sperimentata prima da molti di voi. Questo non significa che questo metodo non sia possibile per voi, significa solo, che non avete mai scelto questo mezzo per uscire dai regni fisici e ricomparire nei regni superiori. Molti di voi in questo momento sono consapevoli di aver scelto di lasciare i vostri percorsi correnti attraverso il fisico e iniziare il vostro viaggio di ritorno a casa dove venite, nei regni superiori dell'esistenza. Noi, la Federazione Galattica di Luce, siamo qui in gran numero a sostegno dei vostri desideri e delle vostre volontà, come lo siamo sempre stati. Noi, così come le vostre guide, i vostri amici, i vostri allenatori e i vostri mentori, non prendiamo decisioni per conto vostro senza il vostro pieno consenso e la vostra cooperazione. È solo, allora che prendiamo decisioni per conto vostro basate solo su ciò che sentiamo che è per il vostro bene più grande e per il vostro progresso continuo come esseri spirituali della luce. Permetteteci in questo momento di aiutarvi a portare a voi ciò che avete scelto. Ciò per cui noi siamo qui è solo per aiutare a rendere realtà ciò che avete scelto e ciò è per cui ci avete incaricato di aiutarvi a realizzare noi non siamo qui per altri scopi. Noi non siamo qui per ragioni nostre e non abbiamo programmi segreti di sorta. Siamo vostri amici e noi siamo le vostre guide che sono state con voi in ogni passo del cammino, ogni respiro del cammino, del vostro viaggio in corso così come pure nei tanti precedenti viaggi. Molti di voi hanno sperimentato l'inversione di questi ruoli in molte occasioni. Molti di voi hanno messo i piedi proprio dove ci troviamo oggi, come guide che hanno assistito molti altri che sono attualmente incarnati nei regni fisici giusto al vostro fianco, e molti di voi hanno addirittura agito come guide per molti di noi che, in tutta l'attuale incarnazione, agiamo come vostre guide. Questo è come funziona tutto questo universo, dove ognuno di noi agisce come guida per l'altro nell'amore e nel servizio per l'altro. Come abbiamo detto tutti insieme molte volte, non vi siamo estranei. Noi non siamo ospiti indesiderati, noi siamo la vostra famiglia, siamo i vostri amici, e noi siamo le vostre guide. Stiamo anche come voi, come molti di voi hanno messo i piedi proprio dove ci troviamo oggi, guardando oltre, nutrendo e guidando le anime, mentre sono sul proprio cammino fisico. Noi non siamo diversi da voi, e voi non siete diversi da noi. Noi siamo uno. Siamo sempre stati, e saremo sempre uno. Non c'è niente, che ci separa. Lavoreremo sempre insieme in un modo o nell'altro attraverso tutto il nostro cammino dell'esistenza senza fine. Avete ora un quadro più chiaro di chi siamo e di chi siete? Siamo tutti una grande famiglia. Noi non siamo esseri, che sono venuti qui per incontrarvi per la prima volta. Noi vi conosciamo ancor più profondamente di quanto voi ben sapete, così come siamo pienamente coscienti di chi siete veramente e di tutte le incarnazioni nel fisico così come le vediamo chiaramente dal nostro punto di osservazione. Amiamo ognuno di voi molto profondamente, e abbiamo solo il desiderio di realizzare ciò che è meglio per voi e che cosa avete desiderato imparare e sperimentare in tutte le vostre incarnazioni. Non passerà molto tempo prima di poterci incontrare di nuovo con voi e vi abbracciamo come nostri amici e la nostra famiglia. I percorsi su cui molti di voi sono in questo momento si avviano a una conclusione, ma tenete sempre a mente che quando un percorso si chiude ce n'è sempre un altro che si apre per voi perché il vostro percorso è uno che non finisce mai. Inizierete anche un nuovo viaggio, ma questa volta saremo insieme a voi, così come ci siamo proposti di raggiungere nuovi traguardi, nuove sfide e godere di nuove esperienze e avventure in tutto questo universo meraviglioso, che chiamiamo casa. Siamo la Federazione Galattica di Luce. Canalizzato attraverso Greg Gilles. Traduzione Raggio di Luce Verde. Linguaggio Celeste